Ciao Giovanni, ciao bambini di Radio Bumi, sentite? Siamo all'interno di un grande tronco di un grande albero nel parco della principessa Sissi e noi siamo qui per registrare questa puntata speciale dedicata alla montagna che vi farà vedere un sacco di cose meravigliose animali, piante, fiori e chissà quante altre cose ancora Ciao Giovanni! E brava la nostra Daniela che appare dal nulla nel mezzo del giardino di Sissi e noi intanto continuiamo a camminare nei boschi narrativi perché nei boschi delle fiabe puoi trovare talvolta dei curiosi personaggi e quindi andiamo a vedere cosa ci riserva questa straordinaria boschiva puntata di Radio Bumi Oh, ce l'ho fatta uscire dall'albero finalmente perché voglio raccontarvi una storia che ho imparato camminando nei boschi della Varridanna qui in Alto Adige una storia che si raccontava tanti e tanti anni fa e che spaventava i bambini della valle parla di mostri, di mostri particolari io non voglio farvi spaventare voglio solo che voi capiate dove mi trovo in questo ambiente altrettutto meraviglioso che vedete alle mie spalle un ambiente ricco, ricchissimo di fiori, di alberi, di montagne è fantastico poi camminando in questi boschi io ho imparato anche tantissime cose che non sapevo ad esempio ho imparato molte cose sulle radici degli alberi degli abeti, dei pini e ho scoperto quali sono quelli che rimangono saldi nonostante i forti venti che in queste valli soffiano durante soprattutto il periodo invernale per cui vi auguro un buon ascolto dalla Valridanna la Tana dei Norgelen tanti e tanti anni fa si aggiravano nella zona del Führterboden i Norgelen la caverna in cui abitavano viene chiamata ancora oggi Norgelelok Tana dei Norgelen i Norgelen, gli adulti erano uomini di piccola statura che non avevano paura di nessuno si avvicinavano solitamente a donne e bambini a cui facevano brutti scherzi una volta due contadine portarono il pranzo e i loro uomini sui campi in alta montagna allora in Norgelen le derubarono delle vivande svuotarono le brocche del latte e legarono perfino i grembiuli sopra le loro teste dopo aver fatto ciò nelle vicinanze si udì la loro maliziosa e fragorosa risata gli adulti che ci hanno raccontato le leggende ricordano ancora bene come da bambini temessero i Norgelen e come per questo motivo passassero frettolosamente davanti al Norgelen i Norgelen vivevano spesso anche sui masi dei contadini qualche volta essi potevano essere anche buoni e servizievoli un verso tipico di Norgelen è ancora conservato a interzii in Passiria vengo da Ridanna ho delle corna come una riete una barbetta come una capra eppure non so come mi chiamo ci sono boschi da merenda e passeggiata tutti pieni di delizie e di frescura ci sono boschi da tremenda camminata pieni zeppi di pericolo e paura cosco strano misterioso tanto cupo di minaccia che ti fa sbiancare la faccia perciò coraggio però va lento controlla attento ogni passaggio quello è muschio che è cresciuto su un macigno un cuscino molle bello pronto all'uso o è il pelo di un mostraccio grosso e arcigno che ti aspetta nascondendo il brutto muso o scomuto spaventoso movimenti così strani che ti fan tremare le mani perciò coraggio però va lento controlla attento ogni passaggio quello è un ramo che si stende dritto e quieto con le foglie verdi come un ornamento o è il collo di un serpente freddo e astuto che immobile aspetta il suo momento bosco stile minaccioso ombra e forme così strambe che ti fan tremare le gambe perciò coraggio però va lento controlla attento ogni passaggio perciò coraggio però va lento controlla attento ogni passaggio passeggiando sempre nel bosco di Sissi qui a Ridan a Mareta in Varridan ho scoperto come sono fatte le radici degli alberi guardate un po' abbiamo le radici dell'abete bianco che si fittiscono e entrano nel terreno poi le radici dell'abete rosso che sono più in superficie e le radici dell'arice guardate che differenza e adesso capiamo anche perché quando ci sono le grandi tempeste di vento i larici cadono e anche gli abeti rossi mentre l'abete bianco rimane saldo a terra dal libro tante storie di orchi folletti troll e trollaputrella vi racconto una storia che non è quella di trollaputrella ma quella del fungo gigante cosa succede con il fungo gigante? accade che troll 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 chi arriva trollando giù per la montagna narda? la famiglia troll al gran completo mamma trolla papà trollone trollino e trollina vanno a caccia di funghi la famiglia troll è composta da troll grandi più o meno come noi ma non sono mica tanto uguali a noi hanno un bel testone un grosso nasone e una coda pelosa ciascuno lo so che anche a voi piacerebbe molto avere una coda pelosa ma niente da fare miei cari dovevate nascere troll o al massimo gatti trollando trollando la famiglia troll si aggira fra gli alberi finché si imbatte in un fungo enorme grande quanto una casa eccolo qua uh quanto è grosso e ai troll piace molto sgranocchiare i sassi come aperitivo ma poi mangiano anche cortecce funghi, frutti e bacche mangiamolo, mangiamolo, mangiamolo dicono trollino e trollina i due piccoli troll badaboom proprio in quel momento scoppia un temporale e inizia a piovere guardiamo qui ecco qui il temporale e la pioggia incredibile wow tutta la famiglia troll si rifugia sotto il grande fungo che col suo grosso ombrello li tiene al riparo dall'acqua ma trollino e trollina hanno fame mangiamolo, mangiamolo, mangiamolo strillano eccoli qui tutti sotto appassionatamente al fungo gigante no dicono trolla e trollone se lo mangiamo poi ci bagniamo tutti e ci viene raffreddore mangiamolo, mangiamolo, mangiamolo e lo ribattono trollina e trollino no rispondono trolla e trollone se lo mangiamo dopo ci raffreddiamo mangiamolo, mangiamolo, mangiamolo ripetono trollina e trollino no rispondono trolla e trollone se lo mangiamo ci bagnà trol 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 troppo tardi con i loro dentini affamati trollino e trollina hanno cominciato velocissimi a mangiare il fungo non piove più e anche mamma e papà troll si mettono a mangiare di gusto troll, troll, troll mangiamolo, mangiamolo grazie a Feve Sillani e i suoi bellissimi disegni per questa storia del fungo gigante mangiamolo molti piccolini nascosti fra le piante uomini piccini con una barba grande piccolo corteo che sulle foglie pesta li chiamano gnomi uomini di foresta e questo è il nostro posto e come è ci piace ci piace questo bosco lasciatecelo in pace molti piccolini e gente silenziosa uomini piccini con le guancette rosa in piccole case nascoste fra radici si chiamano gnomi e sono nostri amici e questo è il nostro posto e come è ci piace ci piace questo bosco lasciatecelo in pace molti piccolini molti piccolini colore verde e bruno uomini piccini che passano uno a uno passano leggeri fra il muschio e le ghiande molti piccolini molti piccolini sono più di uno grande e questo è il nostro posto e come è ci piace ci piace questo bosco lasciatecelo in pace la leggenda del lago di misurina il lago di misurina è uno dei laghi più belli d'italia si trova in provincia di belluno all'altezza di 1754 metri è un lago veramente grande il lago prende il nome da una bimba che era la figlia del re Sorapis che governava tutte le terre che stanno attorno alle tre cime di Lavaredo questa bambina era una bambina molto viziata capricciosa ma era anche molto graziosa e il re Sorapis stravedeva per lei tanto che le concedeva qualsiasi cosa lei volesse quando la bambina compì otto anni cominciò a chiedere di poter entrare in possesso dello specchio magico detenuto da una fata che viveva lì attorno sulle montagne uno specchio magico che dava a chi lo possedeva il potere di leggere i pensieri di chi vi si specchiasse insomma uno specchio veramente straordinario il re allora andò a chiedere alla fata lo specchio magico e la fata glielo concesse però ad una condizione che il re si sarebbe trasformato in una montagna il re pur di far felice la sua figlia unica figlia misurina ha consentì e a poco a poco si trasformò in una montagna e le sue rughe divennero poi le radici degli alberi che crescevano su questa montagna insomma una storia un po' triste anche perché il re pianse così tante lacrime da formare un lago appunto il lago di misurina che ancora oggi si può ammirare ed è veramente bellissimo andate a leggervi la leggenda che è molto più lunga grazie a tutti Grazie a tutti.